E' durata a meno di un'ora l'udienza di convalida del fermo per il duplice omicidio aggravato a carico di Luca Ricci. L'uomo cinquantenne fanese rio confesso di aver strangolato la madre Luisa e ucciso con diversi colpi di martello il padre Giuseppe. Secondo quanto raccontato dall'avvocato Roberto Longhini, Ricci ha provato a parlare ma è scoppiato in un pianto a dirotto e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dietro le indicazioni del dottor Gasperini ha iniziato a raccontare un pochino quello che è successo quella sera ma si è praticamente immediatamente interrotto perché aveva ripetute crisi di pianto e disperazione per cui il giudice ha ritenuto opportuno sospendere l'udienza e a quel punto il signor Ricci non se l'è più sentita di riprendere l'interrogatorio. Conto poco preciso con diverse zone d'ombra e quanto emerge al termine dell'udienza, Luca Ricci ha ricordato la serata passata in tranquillità alla misurazione della pressione in piena notte e le prime ore del mattino trascorse accompagnando il figlio minorenne a scuola. Quando gli è stato chiesto di spiegare come avesse ucciso i genitori si è abbandonato al pianto e ha preferito non parlare. Ha semplicemente ricostruito quello che aveva già sostenuto agli atti su quello che era successo quella sera in maniera abbastanza chiara per quanto sempre interrotto da quella difficoltà legata alle crisi di pianto. Però non è andata la descrizione poi degli eventi proprio nel momento in cui si sarebbe dovuto addentrare nel ricordo della visione dei genitori la mattina quando è entrato nella casa, è scoppiato in un pianto dirotto a singhiozzi per cui non riusciva proprio più a parlare e il giudice ha avuto la delicatezza di interrompere gli interrogatori. L'avvocato Roberto Longhini parla dell'ipotesi di voler sottoporre il suo assistito a perizia psichiatrica nel corso delle indagini. Ci vorrà tempo per fargli ricordare tutto, ha dichiarato il legale di Luca Ricci. Adesso veramente anche da un punto di vista difensivo bisognerà valutare perché a me sembrano evidenti delle grosse lacune da un punto di vista proprio psicologico di questa persona se non ovviamente psichiatrico perché ci sono troppi vuoti, troppi buchi di memoria, troppi punti neri rispetto alla chiarezza di tutto quello che è al di là dell'episodio centrale di questa vicenda. Al termine dell'udienza il PM Maria Letizia Fucci ha chiesto l'ordinanza di custodia in carcere per duplice omicidio volontario aggravato. Il GIP Giacomo Gasparini si è riservato la decisione. Per ora siamo in fase di indagini preliminari quindi anche in questa fase che siamo nei termini di una convalida dell'arresto è presumibile che ovviamente l'arresto sarà convalidato.